A Inprosit, la vetrina dei migliori prodotti enogastronomici della regione che si svolge nel Tarvisiano e che strizza l'occhio anche ai buongustai austriaci proprio con l'invito in tedesco al Brindisi, ha fatto il pienone Andrea Romoli. Vero Bundi presenza alla quindicesima edizione di A Inprosit, la manifestazione che Malborghetto dedica ogni anno alle eccellenze enogastronomiche italiane. Fra sabato e domenica è stato a tratti davvero difficile trovare spazio negli stand che offrivano delizie come il branzino crudo di Pirano, il prosciutto carsolino o il celeberrimo Formà di Frant, il re dei formaggi friulani da degustazione. Apprezzatissimi gli assaggi liberi di formaggi salumi ma anche del meglio della produzione vitivinicola regionale e italiana. Chiusura in serata nei ristoranti della zona dove grandi chef italiani e stranieri hanno preparato un menù di degustazione in collaborazione con i cuochi locali.